Una piccola parentesi teologica. Nell'Antico Testamento era più naturale perché nell'Antico Testamento, cioè il periodo degli ebrei, il potere civile e religioso fondamentalmente era l'unica cosa. Il re veniva eletto da Dio e i re venivano valutati in base se avevano seguito non le leggi dello Stato, ma se avevano seguito ciò che Dio aveva detto oppure no. Per cui in quella fase il potere civile e il potere religioso era una stessa cosa. Da Gesù in poi, per cui il periodo dei primi cristiani, questi due poteri si separano. Abbiamo il potere religioso che è una cosa, si occupa dello spirito, e poi abbiamo il potere invece politico che si occupa della polis. E per cui in quel momento è importante che gli scrittori del Nuovo Testamento sottolineano questo aspetto preciso. Anche Gesù quando dice ma dobbiamo pagare le tasse, cioè nel senso che il potere forse ci potrebbe anche non piacere, dobbiamo onorarlo. Gesù dice, se vi ricordate, data a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, cioè dovete pagare le tasse. San Paolo addirittura dice, si spinge oltre, in primo Timoteo al capitolo 2, versetto 1 e 2, invita i cristiani a ringraziare e pregare per l'autorità e in maniera particolare per il re e tutti quelli che sono in autorità. Ora è vero che forse qualche cristiano ogni tanto avrà pregato Dio dicendo, signore prenditolo quel politico, ecco non credo che stia parlando di quel tipo di preghiera. È un tipo di preghiera invece in cui noi riconosciamo il ruolo importante, forse a volte nella dialettica potremmo non essere d'accordo su alcune linee, alcune diciamo visioni della vita pubblica. Però è un rispetto. Ecco per cui noi come Chiesa e come cittadini vogliamo esprimere a voi proprio anche la luce di quello che noi impariamo dalla parola di Dio, questa riconoscenza e rispetto per quello che voi avete fatto, per questa grande responsabilità perché vi siete presi a volte gli onori, a volte gli oneri, a volte ringraziamenti, a volte invece l'ansia che comunque abbiamo vissuto e l'abbiamo scaricata su chi in primis rappresentava un po' la guida di questa città. Per cui volevo così ringraziare e dare anche la possibilità, ci sarebbe piaciuto sentire un po' tutti ma in questo momento dobbiamo limitare l'alternanza qui anche per garantire che i microfoni non siano esposti a troppe persone e per cui appunto volevo chiamare l'assessore Labruzzo che un po' a nome di tutti parlerà consegnerò qui un libro che all'uscita daremo poi a tutti intitolato Un abbraccio inatteso, forse cade proprio a fagiolo questo titolo un abbraccio che in questo momento non possiamo darvi fisicamente ma almeno moralmente lo vogliamo fare è di un nostro insegnante, un nostro intellettuale che da poco è deceduto ed è una riflessione per la mente e dei racconti per il cuore per cui invito l'assessore e qui davanti, grazie Te a tutti, questa è una responsabilità grande che mi date perché prendo la parola a nome di tutti i colleghi che sono qui per rinnovare un gesto che è stato fatto più volte già in questi primi minuti intanto vi porto i saluti del sindaco Enzo che come diceva Giovanni oggi è impegnato ci siamo un po' distribuiti nelle varie situazioni e anche a nome qui di tutti i colleghi, qui ci sono diversi assessori prima Giovanni li ha nominati tutti, consiglieri comunali, la presidente di quartiere ci sono anche delle associazioni, c'è Silvia di Voce all'autismo e la presidente ci siamo tutti noi, rinnoviamo un gesto importante che è questo dire grazie se fatto con onestà come facciamo oggi non è un gesto buonista, non è un gesto scontato è un gesto raro e che stupisce sempre e che credo dobbiamo farcelo reciprocamente dire grazie perché siamo stati insieme in una partita che non ci aspettavamo dovessimo tornare indietro penso che ci resteremo comunque tutti in questa partita però ci rendiamo conto della portata travolgente che hanno avuto questi mesi la richiesta e il momento di ringraziamento e di preghiera preparato da voi questa mattina è sorprendentemente bello perché non ce lo si aspetta perché ce n'è bisogno per darsi coraggio e per andare avanti è una sorta di benzina, un pit stop perché non è mica finita qui ci rendiamo benissimo conto che la partita non è chiusa ma è un pit stop importante che ci rigenera nella dedizione, nella passione e nel desiderio di andare avanti insieme se posso vorrei ricordare alcune imprese condivise perché in questi tre mesi, due o tre mesi così pesanti anche per certi versi ci sono stati tanti momenti in cui nel silenzio si sono generate tante criticità ma anche nel silenzio si sono portate avanti tante imprese che ci hanno visti braccio a braccio insieme e nello specifico con tutti i cittadini e tutte le cittadine in generale ma nello specifico con questa comunità perché ricordo la spesa a domicilio in cui per primi, Giovanni è stato uno dei primi se c'è bisogno di qualche cosa noi ci siamo e dopo Giovanni tante altre comunità tanti altri singoli cittadini e singole cittadine che si sono resi disponibili in un momento in cui era anche rischioso uscire fuori per aiutare chi non poteva proprio uscire le fasce più fragili chi era in quarantena e in isolamento per questioni sanitarie quindi portare la spesa a casa è stato un gesto importantissimo che ha comunque mantenuto la rete nel momento in cui ci veniva chiesto di stare tutti a casa isolati gli uni dagli altri è stato un tempo in cui ci sono stati tolti gli abbracci le strette di mano, ancora non ci siamo abituati perché il gesto primo che ci viene quando ci incontriamo è questo o l'abbraccio, siamo così ma siamo così perché lo vogliamo continuare ad essere quando sarà possibile quindi questa è stata una delle prime imprese poi le mascherine, le mascherine autoprodotte la consegna delle mascherine a casa la spesa sospesa, la spesa solidale qui il quartiere è stato uno dei dodici punti in cui è stata redistribuita per due mesi è terminato ieri questa piccola avventura piccola grande avventura e ancora qui ci siamo rivisti sono piccoli e grandi gesti che ci fanno dire un grazie reciproco per non parlare di tutto il resto gesti di solidarietà economica contributi, sguardi, vicinanza, prossimità il grazie reciproco ci fa fare anche memoria non dobbiamo dimenticarci di questo tempo che abbiamo vissuto la memoria è grata ma la memoria è anche dolorosa sofferta per molti versi ma la memoria ci permette anche di darci nuovi impegni il non dimenticare ci fa lanciare comunque i nuovi impegni ora è il tempo della tenuta ora non è il tempo in cui possiamo dire ah è finito tutto lo vediamo come siamo oggi disposti in questa sala lo vediamo come ci viene chiesto comunque di avere rispetto anche degli altri oggi abbiamo tutti la mascherina siamo a distanza ancora tutto quello che possiamo rivivere in questo momento ci chiede di stare dentro a dei paletti ben precisi e lo facciamo con piacere teniamo teniamo insieme insieme ieri sera c'è stato un momento all'arena San Biagio in cui abbiamo visto insieme ai sindaci dell'Unione della Valle del Savio un documentario un docufilm che ha recuperato alcuni tratti del periodo vissuto e di quello che è adesso e più volte i sindaci dal sindaco Enzo a tutti gli altri sindaci hanno detto questa parola insieme l'ultimo Fabio Molari il sindaco di Montiano l'ha detto anche in dialetto per dirci che così dobbiamo avere questa tenuta così dobbiamo continuare insieme andiamo avanti con fiducia e con coraggio credo che tutti gli amministratori qui presenti ma anche quelli che rappresentiamo oggi siano davvero grati per questo momento a questa chiesa a questa comunità e insieme ci facciamo gli auguri sì della tenuta ma anche del percorso che ci vedrà in avanti insieme grazie porto via porto via ancora un minuto porto via ancora un minuto a Roberto dire non mi ero dimenticato di Silvia Casali volevo lasciarla per ultimo perché una preghiera speciale in particolare va come le tante associazioni tu ne rappresenti una che porta avanti un grosso lavoro per i tuoi bambini per i bambini della città che hanno forme di autismo e il disagio forte che hanno vissuto le famiglie e i bambini con autismo è stato in questi tre mesi e forse lo è ancora un grande sacrificio il nostro braccio il nostro pensiero la nostra preghiera a te e la tua associazione Silvia ho appena saputo che forse per dei problemi tecnici siamo finiti noi in questo momento sullo streaming nazionale il nostro interno della chiesa avventista per cui ci seguono tante più persone di quante noi immaginavamo per cui giusto un piccolo riassunto se magari qualcuno si è collegato in questo momento spiegare che oggi come chiesa avventista della comunità di Cesena abbiamo deciso abbiamo desiderato esprimere il nostro ringraziamento alle autorità civili che hanno gestito questo momento di emergenza di crisi che hanno gestito e che stanno ancora gestendo per cui abbiamo qui appunto una grande nutrita rappresentanza e stiamo riflettendo su questa parola grazie per noi come chiesa avventista oggi è anche il giorno diciamo di culto per cui mi permetterete e vi ringrazio di questa anche vostra diciamo generosità nel commentare anche dal punto di vista più biblico più spirituale con un linguaggio però che credo debba arrivare a tutti il senso del grazie perché nella Bibbia questa dimensione del ringraziare è narrata con un paradosso cioè con la sua affermazione e la sua negazione lasciate memorizzate queste due immagini e poi dopo proverò a spiegarle allora nella sua affermazione perché nella Bibbia troviamo spesso questo invito a ringraziare anzi c'è un episodio in cui vede protagonista Gesù che fa un miracolo uno dei tanti miracoli ed è il miracolo delle guarici dieci lebrosi forse questo ricordo ce l'abbiamo un pochettino da catechismo o durante la messa o nelle nostre letture personali ci siamo capitati in questo brano sono dieci persone che si rivolgono ai servizi in questo momento all'epoca hanno servizi religiosi però sono dei servizi cioè abbiamo bisogno e qualcuno ci deve curare per cui possiamo andare ai servizi sociali del comune possiamo andare all'asile per portare i nostri bisogni soprattutto in questo periodo di crisi molti sono andati ai servizi per richiedere assistenza i servizi sono lì per servirci li abbiamo nominati li paghiamo per quel loro lavoro e devono fare quello che devono fare chi di noi ringrazia l'operatore dopo che ci ha fatto il prelievo del sangue poche persone è dovuto è pagato per quello anzi in genere più che ringraziare scarichiamo su quell'operatore la nostra ansia e difficoltà perché magari abbiamo aspettato più del tempo chi ringrazia un assessore chi ringrazia un'associazione che fa un servizio quando loro sono tenuti l'ha voluto loro poi l'assessore si è convocato lui mica mica lo devo ringraziare ma anche nella nostra vita comune chi ringrazia il genitore ogni volta che fa quello che deve fare chi ringrazia il coniuge quando tornando dal lavoro gli dice grazie che anche oggi si è andata a lavorare non siamo abituati a esprimere questo grazie è dovuto al suo dovere e forse questo è l'atteggiamento che questi dieci lebrosi hanno nei confronti di Gesù perché dice la storia che dieci lebrosi bandi a Gesù gli chiedono una prestazione Gesù fornisce questa prestazione li guarisce gli dice di andare poi dal sacerdote perché dovevano farsi certificare questa guarigione e solo il sacerdote poteva farlo ma dice il testo biblico leggo in Luca capitolo 17 versetto 16 descrive che solo uno di questi torna indietro uno di questi sente il bisogno anche se Gesù era tenuto a farlo cioè Gesù è Gesù è venuto qui per guarire cioè chi gliel'ha chiesto uno può dire potevi starti i doveri no io vengo l'hai scelto te il tuo dovere non puoi nominarti Gesù salvatore del mondo e poi non salvare il mondo per cui posso dare per scontato quello che tu stai facendo uno di questi sente però il bisogno di non accettare solo per scontato quel gesto che Gesù fa nei suoi confronti e per cui Luca capitolo 17 versetto 16 e poi 17 prosegue così e si gettò per cui questo uno che torna da Gesù si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra ringraziandolo e questo era un samaritano Gesù risponendo disse i dieci sono stati tutti mondati e nove altri dove sono Gesù non fa la paternale però mette in evidenza questo elemento è dissonante questa cosa dieci persone sono guarite e una sola torna a ringraziare questo è l'essere umano noi diamo per scontato che qualcuno solo perché ha un incarico poi soprattutto se stipendiano ancora di più debba fare quella cosa e l'unico motivo per cui mi posso rivolgere a quella persona è per chiedere eventualmente altro o per sottolineare la mancanza di quella prestazione no non è scontato ringraziare ringraziare è un atto della volontà nella quale mi pongo in umiltà nei confronti di chi mi ha dato qualcosa e riconoscendo il mondo dell'altro la fatica che comunque la persona ha portato nel fare quel compito la difficoltà anche quella persona ogni mattina fa fatica ad alzarsi ed andare a fare quello per cui comunque ha deciso di fare è il riconoscimento dell'altro nel ringraziare non sono più io al centro ma prima lo era al centro quando ho ricevuto il servizio ma nel ringraziare rimetto al centro colui che ha fornito il servizio noi non ringraziamo chi fa il suo dovere faccio una iperbole faccio una cosa assurda pensate in un mondo ideale in cui l'agenzia delle entrate dopo che tutti hanno costruito i 730 ringrazia i cittadini per la loro onestà è un mondo bellissimo è un'utopia perché l'agenzia delle entrate se bussa alla nostra porta lo fa solo per sottolineare che noi non abbiamo fatto il nostro dovere cioè quando un cittadino fa il suo dovere viene mica ringraziato per cui è proprio abbiamo perso questa valenza che quando qualcuno ha fatto qualcosa ma era il suo dovere non deve essere ringraziato il ringraziamento può essere fatto all'eroe qualcuno che non doveva fare il suo dovere qualcuno che nella distribuzione del cibo a un certo punto che ne so per aiutare qualcuno si deve togliere la mascherina pur di salvare quella persona quell'eroe va ringraziato perché ha fatto una cosa straordinaria ma chi lo fa nella quotidianità non ringraziamo noi volevamo come chiesa riscoprire questo elemento e ricordarci che dobbiamo ringraziare tutti coloro che in un momento della nostra vita sono al nostro servizio e riconoscere quella fatica quella dedizione al di là poi degli orientamenti al di là delle nostre posizioni però dicevo il tema del ringraziare è un paradosso dicevo all'inizio che da una parte per cui in questa storia troviamo un invito a ringraziare ma un paradosso contrappone un altro elemento cioè la sua negazione sembra quasi che dall'altra parte la Bibbia ci inviti a non ringraziare però voglio specificare il perché Matteo capitolo 6 versetti da 1 a 6 Matteo capitolo 6 è un alcuni detti di Gesù e a un certo punto invita a fare una cosa particolare non so se voi ricordate quando c'è un detto viene citato un detto di Gesù quando dice che la mano destra non deve sapere cosa fa la mano sinistra a volte abbiamo sentito questa espressione allora il contesto qual è a una cultura in cui spesso la dimensione pubblica del farsi vedere era molto marcata Gesù voleva sottolineare anche il valore dell'intimità cioè il valore della discrezionalità che non tutto deve passare dal riconoscimento pubblico e per cui in quel contesto lui fa alcuni consigli ad esempio dice per cui in Matteo capitolo 6 versetti da 1 a 6 dice ad esempio quando tu fai l'elemosina quando tu dai un dono non farlo vedere agli altri anzi la tua mano destra non sappia quella sinistra cioè addirittura non solo non fai sapere all'altro quanto hai donato ma addirittura non farlo sapere neanche a te stesso per cui ciò che questa parte di te dona neanche l'altro deve sapere sta parlando con paradosso ovviamente a un certo punto dice anche che quando preghi e per cui in un contesto religioso chi prega è una persona di valore non fallo davanti agli altri perché magari potresti essere troppo elogiato se tu vuoi pregare fatteli in un angolino nascosto dove nessuno ti vede poi prosegue verso la fine di questo capitolo al versetto 16 e 17 per cui siamo sempre in Matteo capitolo 6 versetti 16 e 17 e addirittura dice quando digiuni e all'epoca c'era l'abitudine di digiunare ma in maniera proprio contrita cioè si metteva un sacco di che nascondeva come dire i colori dei propri vestiti ci si cospargeva il capo di cenere cioè sembravamo più santi rispetto agli altri dice no quando devi fare questo tu al mattino ti fai la barba ti improvumi metti i vestiti più belli digiuna dentro casa tua allora visto che Gesù parla in questo momento per provocazione quale messaggio voleva dare voleva dare il messaggio che quando noi ci esponiamo alla vita pubblica noi possiamo ricevere un ringraziamento ma noi possiamo a volte anche ricevere un elogio che alimenta il nostro orgoglio e quando noi oltrepassiamo quel passaggio non sappiamo più se abbiamo fatto quella cosa per spirito di servizio o per autoorgoglio ed è complicato questo non è una lezione che facciamo agli altri è una lezione che facciamo ognuno di noi cioè noi siamo tutti personaggi pubblici io mi occupo a livello nazionale nella nostra chiesa delle politiche per la famiglia e alla fine del nostro mandato dovremmo rendicontare all'assemblea nazionale delle nostre chiese per cui migliaia di persone quello che abbiamo fatto la rendicontazione è una cosa importante perché rendiamo conto all'altro di un incarico di una dele che ci ha andato ma il confine tra rendicontare e autoincensarsi è molto sottile perché io posso nel raccontare all'altro quello che ho fatto nutrire il mio ego e per cui l'altro non diventa più l'oggetto del mio servizio diventa lo strumento perché io possa per cui mi servo io non sono al servizio dell'altro mi servo dell'altro per cui l'altro non è più un oggetto con una sua come dire una sua natura una sua importanza ma diventa uno strumento al mio servizio e sapete questo tutti più o meno ne siamo soggetti un genitore può sacrificarsi per il figlio non perché è interessato veramente al figlio ma perché grazie al figlio lui può prendere dei meriti spesso cito quando parlo di educazione quando noi genitori ci incontriamo con altri genitori e facciamo io dico lo scambio delle figurine cioè vi ricordate quando eravamo piccolini scambiamo le figurine diciamo ce l'ho ce l'ho ce l'ho ci manca ecco con i nostri figli a volte facciamo così quando una mamma ci dice sai mio figlio ha preso otto in una materia allora noi facciamo lo scambio delle figurine dobbiamo vedere che cosa posso ah mio figlio però è arrivato prima a quel concorso e allora siamo uno pari allora io devo trovare un'altra figurina e per cui in questo scambio bello comunque da una parte di narrare le cose belle di cui che i nostri figli hanno fatto e di cui siamo orgogliosi a volte però rischiamo di servirci dei nostri figli per sentirci veramente importanti e allora questo delicato confine tra rendicontare nella vita pubblica e lavorare nel silenzio per rendere giustizia il vero servizio è un'arte è un'arte nella quale ognuno di noi è invitato ecco perché forse Gesù quasi un po' come paradosso dice non fare tutti in modo che tutti gli altri possono vedere il servizio così almeno come lo comprendiamo dalla parola di Dio è un servizio dato come dono e non un servizio che crea un debito cioè il servizio come dono porta il donatore a diventare poi anonimo diventa protagonista in quel momento in cui ha donato qualcosa e dopo sa uscire dalla scena per ridare valore a chi è stato il soggetto di questa donazione quando invece il servizio crea debito lascia il donatore sempre al centro e l'altro che deve continuamente ossequiare nel ringraziare perché si sente in debito un servizio come debito lega le persone non le fa crescere non le dà valore pensate quando a volte come genitori usiamo una frase a volte magari un po' presa allo sconforto e dice dopo tutto quello che ho fatto questo è come mi ripaghi questo è il servizio che crea debito non dono è difficile quando noi esercitiamo la gestiamo la vita pubblica a trovare questo equilibrio ecco noi in questo momento vi abbiamo ringraziato non per soleticare la parte vostra più vulnerabile del vostro ego ognuno di noi c'è il suo ego non l'abbiamo fatto per questo l'abbiamo fatto invece per incoraggiarvi a continuare a fare il servizio che avete fatto anche se nessuno dovesse mai ringraziare nella Bibbia c'è un testo dove dice getta il tuo pane sulle acque col tempo lo ritroverai ci sono alcuni dei servizi che non saranno mai notati da altri ricordo una volta nella mia vita pastorale mi sono trovato insieme con mia moglie ad aiutare una famiglia lavoriamo spesso nell'ambito appunto delle famiglie abbiamo aiutato in maniera particolare una famiglia attraverso un momento particolare di crisi sia di coppia che anche di altre situazioni siamo stati accanto e dopo che abbiamo finito questo nostro diciamo servizio abbiamo avuto la sensazione che non ci fosse stato un vero e proprio ringraziamento abbiamo avuto quasi la sensazione che sia stato che era dovuto quello che dovevamo fare perché ero il pastore perché sono i responsabili nazionali della famiglia per cui perché grazie e abbiamo messo questo sentimento nei mai di Dio dire signore dopo tutto noi dobbiamo lavorare per te certo c'è una parte umana che ha bisogno di avere un feedback però questo ci aiuta a capire quanto la nostra parte umana è più alta rispetto al nostro spirito e per cui abbiamo detto signore mettiamo nelle tue mani questo noi sappiamo che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare dopo molti anni in maniera inaspettata riceviamo un messaggio su whatsapp da uno dei componenti di questa famiglia dove diceva forse non vi abbiamo ringraziato a sufficienza e inizia a dire 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 e abbiamo detto signore è stata la risposta a quelle nostre preghiere riuscire ad aiutare senza ricevere quel grazie è un esercizio dello spirito che ci aiuta a capire in quale direzione sto andando volevo concludere concludere con un pensiero tratto sempre dalla parola di Dio perché per noi cristiani crediamo che questo libro non parli soltanto di teologia astratta o del passato ma parla di studi uomini donne come noi che hanno vissuto anche se è un secolo diverso questa ricerca di crescere nel proprio nel proprio spirito poi i cristiani lo fanno in rapporto al Dio in cui credono però questa ricerca di emergere dalla nostra materialità e dare voce al nostro spirito al di là del nostro orientamento religioso è una sfida non siamo del genere animale siamo esseri umani con una grande importanza e per cui in queste pagine troviamo grandi lezioni di ispirazione per noi Galati capitolo 5 versetto 13 c'è questo invito un invito che rivolga voi a noi nel riconoscere i tanti donatori anonimi che hanno contribuito al bene comune voi rappresentate la città e vi ringraziamo ma sappiamo tutti che forse in questa grande città tanti altri hanno lavorato senza avere un nome un cognome e noi dobbiamo ringraziare anche queste persone dobbiamo trovare il modo come città di ricordare che il bene superiore è quando la mano destra fa una cosa e la mano sinistra neanche lo sa questo è il grande valore e allora ciò che ci anima nel servire lo possiamo trovare in Galati capitolo 5 versetto 13 leggo l'ultima parte di questo versetto Galati capitolo 5 versetto 13 che dice quanto segue ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri che Dio ci accompagni in questo percorso volevo invitare l'assemblea ad alzarsi per poter concludere questo nostro momento con una preghiera che dirò a nome di tutti perché possiamo ognuno nel proprio intimo ognuno nella propria fede ognuno nella propria capacità di pensare lo spirito accettare questa sfida di servirci l'uno agli altri non solo per il compito che noi abbiamo non solo per la chiamata ma per un bene ancora superiore dell'amore che ci spinge a servirci gli uni verso gli altri preghiamo caro padre che se ne cieli grazie per perché in questo momento di difficoltà in cui tante persone hanno sicuramente sofferto molto chi ha perso il lavoro che ha avuto problemi di salute o forse ha perso la vita in mezzo a queste grandi difficoltà però tu ci hai dato la possibilità di vedere come l'essere umano riesce a tirare fuori grandi energie riesce a concertarsi riesce a reagire riesce a a trovare un bene comune verso il quale lavorare e per cui ti chiediamo come figli a volte in cui ci sentiamo con forza a volte ci sentiamo invece spesati senza risorse di darci ancora forza coraggio per affrontare questa sfida che ancora non è terminata e aiutarci affinché possiamo ringraziarci reciprocamente per riconoscere i doni che l'altro metta a servizio della vita pubblica ma allo stesso tempo aiutarci affinché questo servizio possa essere purificato delle nostre nei nostri limiti delle nostre umanità perché possa veramente essere un servizio etico dacci tu la tua pace accompagnaci ancora nelle nostre giornate tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù Amen Bene possiamo prendere posto sarete invitati dalle persone dette ad uscire con ordine in modo da evitare poi l'assembramento verso l'uscita perché ancora una volta grazie buon sabato a tutti anche a quelli che ci seguono in streaming e che possiamo passare non solo un buon sabato ma un'altra buona settimana sotto lo sguardo di Dio ancora a tutti buon sabato Padre posso dire solo questo quando penso a ciò che fai ogni istante tu per me padre che mi svegli la mattina e mi segui ovunque vado dirigendo i passi miei padre guardo un bimbo e vedo te guardo un fiore e scopro te alzo gli occhi e ci sei tu sempre tu sempre qui non è un sogno ci sei tu per le strade tra la gente ogni istante ogni istante di più sei nella mente mia padre sei nei pensieri miei la mia sola speranza è distante non andare con te non andare via Sempre tu, sempre qui Non è un sogno, ci sei tu Per le strade e tra la gente Ogni istante di più Sei nella mente via, Padre Sei nei pensieri miei La mia sola speranza È di stare con te Non andare via Non andare via